La tua analisi di questa gara, qual è l'Una? Hanno giocato bene, scegliendo di attaccare e sfondare soprattutto per via centrali. Grazie alla qualità di questo gioco offensivo sono riusciti a ottenere una vittoria meritatissima. Solo pochi secondi ancora di collegamento. Ringrazio Luca Marchegiani per avermi accompagnato. Grazie e un saluto anche da parte mia a chi ci ha seguito da casa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.